Paola Battaglia, il mio motto è ogni giorno è leggermente frizzante proprio perché la puntata è leggermente frizzante noi sulle bollicine vi divertiamo alla grande siamo in diretta ragazzi siamo alla cascina San Zago pensate siamo a Salò sopra il lago di Garda siamo addirittura alle porte di San Moritz siamo molto molto vicino io voglio ringraziare subito Iuri, Andrea e Paolo Casanova per questo invito ci siamo ragazzi carissimo pubblico e carissimo Simone questa avventura è quasi giunta alla conclusione siamo alla puntata finale di Leggermente Pasticcini guarda quando vuoi farlo Antonella Clerici della situazione non ci rimane che assaggiare questi meravigliosi piatti grazie Edoardo sempre per la tua simpatia e soprattutto per la tua professionalità io ringrazio sempre il pubblico ogni giorno è leggermente frizzante bravo però il vino è fermo non è frizzante fa niente grazie 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 a tutti.